Conoscevo uno che per un graffio alla macchina ammazzò suo padre. Ora puoi dirasere. Chiucca! Chiucca! Saravaro prima. Nicola, i soldi per la spesa mi servono. Ma chi ti pare che c'è la banca? Ma chi ti pare che stanno la notte? Mi dissero che c'è uno che non resta piccioli, o che non usci. Le condizioni le sai? Ma sono scazzato la minchia di lavorare solo io! Hai un figlio di vent'anni che non fa una minchia da mattina a sera? Nicola, ma non puoi fare così, Nicola. Ciò va? Ma ti tagliassi sta panza? Ma perché mio marito è panzato? Si fa una domandina e si possono ottenere un poco di soldi. La cifra accordata è di 220 milioni. Il possibile Come scrivere col gesso Sulle nuvole Sì, ma quando arrivano i soldi Dobbiamo venircelo a prendere a Roma! Le coordinate bancari. Il possibile Sembra un fiore Ma che paulite? Morto! Morto paulite! E' un errore Tra la neve Ma che paulite? Vai da fare n'dogula! Ma che paulite? Vai da fare n'dogula! Grazie a tutti